Amici, non reprimete come ho fatto io i vostri desideri sentimentali, altrimenti date incontro a brutte situazioni e non reprimete neanche i vostri desideri danarosi. Se trovate un posto di lavoro bisogna andarci, anche se in quel momento non state bene e avete voglia solo un po' di pace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mia è una situazione molto difficile. Come molto, come del resto, come molte altre famiglie. E se devo mettere tutta per andare avanti, sperando di arrivare alla fine del mese. Io sono un ragazzo che ho voglia di lavorare, di amare. Sono un ragazzo innamorato ancora adesso. Sono abbastanza, sono molto avvelito, perché non vedo futuro per il mio domani. non vedo, non vedo, non vedo, non vedo niente. Il vuoto e il nulla. E poi sono in una situazione familiare molto, molto difficile. Chi mi doveva aiutare si è tirato indietro. E così adesso. Mi ha avveluto un forte, insomma, un forte esaurimento. Il tuo Dè. Il tuo Dè, il tuo Dè, il tuo mio pianto staccato anche agli Dèi. Comunque io amo E questo mi dà la forza di andare avanti Amo una ragazza bellissima Ogni tanto la vedo E mi basta questo per essere contento Alle volte esco apposta Anche se non sono sicuro di incontrarla Questo mi dà allegria, gioia, felicità Ma quanto torno Torno a casa Resto peggio di prima